Noi non sappiamo più divertirci. Quando è l'ultima volta che ci siamo divertiti? Beh, a Bormio. A Bormio ci siamo divertiti. Bormio. Era il 94 Bormio. Bormio, 94. L'ultima volta che ci siamo divertiti. A parte che era il 95. E' pazzesco, è pazzesco. Dai, ma sei tanto. Ma tiro? Dai, ma perché ti vengono sempre l'idea? Dai, dai, dai. Ho deciso, faccio l'inserogesto. Ma cosa fa? Si butta dalla finestra? Per mille fulmine e sette. Forza della natura. A noi. 3, 2, 1. Buonanotte. 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 Grazie a tutti